Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi vi racconterò di Etna Comics 2019 e di quella volta che incontrai Johnny Galeghi. Ma prima di arrivare a quel punto della storia voglio naturalmente anche parlarvi di quello che ho acquistato, mostrarvi quello che ho acquistato e anche degli affari che sono riuscito a portarmi a casa. Intanto direi di cominciare dal primo libro che voglio mostrarvi, e si tratta di Daisy, di Lorenza Di Sepio e di Marco Barretta che hanno pubblicato di recente per Toonway, ve ne avevo già parlato in un video precedente, ma questa volta, visto che entrambi erano presenti ad Etna Comics, sono riuscito a farmi fare una dedica sia da Marco che mi ha messo una firma piccolissima qui in questo libro, ve lo farò vedere più da vicino, e poi anche Lorenza che invece mi ha realizzato questa regina in copertina, qui in questa pagina subito dopo la copertina. È davvero molto molto bella, Lorenza è davvero bravissima, e sono stato davvero contento di rivederla, visto che praticamente ci vediamo ormai una volta all'anno da tanti anni. Sempre una bellissima esperienza, sempre super super gentili, Io, ragazzi, naturalmente vi consiglio di acquistare questo volume che trovate sotto in infobox, perché è davvero una gran bella storia e io sento già nell'aria odore di sequel, quindi io ve l'ho detto. Ma detto questo, vi mostro anche un altro libro che è, ragazzi, una figata pazzesca, un libro che vi avevo già mostrato in passato, vi ho recensito, ma ragazzi, adesso c'è una novità. Io sono stato d'Etna Comics con questo mega libro, l'arte di Harry Potter, tutto il giorno dentro lo zaino. Praticamente sono arrivato a casa piegato in due all'indietro perché è pesantissimo, ma ragazzi, sono riuscito a farmi firmare una tavola presente qui dentro da Dermot Power. Chi è Dermot Power? È un artista che ha lavorato a tanti film della saga di Harry Potter ed è stato uno dei primi a realizzare dei disegni basati su quelli realizzati da Stuart Craig, a realizzare un disegno in digitale di Hogwarts, quindi è stato uno dei primissimi a realizzare degli schizzi ed immaginare Hogwarts. All'interno di questo libro c'è un suo disegno e sono riuscito a farmelo autografare. Lui è stato molto molto gentile e me l'ha autografato con una bellissima penna con inchiostro dorato ed è stato davvero molto molto bello. Soprattutto sono contento che me l'abbia fatto gratis, visto che aveva dei prezzi allucinanti. Per un disegno si arrivava anche a 1000€, quindi sono super super contento della firma e mi accontento di questa. Ma rimanendo ancora in tema di artisti e disegni, quest'anno erano presenti molti artisti di casa Disney e uno su tutti era Tony Bancroft. Chi è Tony Bancroft? Per chi non lo sapesse è stato il regista di Mulan, del cartone animato Mulan, ma è colui che ha inventato il personaggio di Pumba, ad esempio, e ha inventato anche Iago di Aladin, ha inventato Mushu del punto film di Mulan, ma anche tanti altri personaggi, ha lavorato a tantissime cose in casa Disney ed era lì proprio a fare dei disegni, faceva delle commissioni, anche in quel caso i prezzi erano abbastanza alti, ma è normale, ma io sono riuscito comunque a portarmi a casa qualcosina. Infatti ho acquistato una stampa, questa qui una stampa di Pumba e Tony Bancroft è stato così gentile da autograffarmela qui nell'angolino con un pennarello e già io ero molto molto soddisfatto così. Abbiamo anche fatto una foto assieme e quindi io ero già molto appagato di questo, ma poi passeggiando per gli stand di Etna Comics mi sono imbattuto nel Funko Pop di Pumba. A quel punto ho fatto 2 più 2, ho detto, aspetta un attimo, qui abbiamo il Funko Pop di Pumba, sotto abbiamo chi ha inventato Pumba, facciamoglielo autografare. E infatti così è stato. Eccolo qui. All'interno del suo bel protector ecco che abbiamo il nuovo Funko di Pumba, Luau Pumba, con la mela in bocca ed ecco che qui sulla finestrella frontale troviamo l'autografo di Tony Bancroft, quindi il papà di Pumba, colui che l'ha inventato e che l'ha disegnato per la prima volta. Lui è stato davvero molto molto contento di filmarmi questo pop quando l'ho visto mi ha chiesto dove lo avessi preso perché non l'aveva mai neanche visto e quindi l'esperienza è stata ancora più simpatica. Io ho fatto un'altra foto assieme a lui col pop tra le mani magari qualcuno potrebbe non credere che questa sia davvero la sua firma o la prova fotografica. Quindi super super contento, anche sua moglie è molto molto simpatica, sono stati lì tutti i giorni, tutti e quattro i giorni di Etna Comics e ci sono passato davanti un milione di volte e ogni volta restavo attaccato alla sua scrivania dove lui stava disegnando cose fantastiche. ma non è l'unico pop perché ce n'è un altro autografato che vi mostrerò tra poco ma prima voglio parlarvi di un altro affare che sono riuscito a fare durante Etna Comics perché, come saprete, nei Misteri Mini di Harry Potter nella seconda serie in modo particolare era presente anche la sirena, la meride che era molto molto rara, una su 72. Ebbene, io passando tra le varie bancarelle ho notato che una di queste ragazze che lavoravano in queste bancarelle, in questi stand stava aprendo dei Misteri Mini e stava mettendo in vendita i singoli pupazzi. Il caso ha voluto che io passassi da lì mentre lei stava mettendo lì in bella mostra una cosa molto molto interessante, proprio la sirena, la meride. Questa molto molto rara su Ebay si trova a 60-70 euro se si è fortunati, ebbene, io me la sono portata a casa per soli 10 euro. Questo, ragazzi, è stato l'affare che ho fatto ad Etna Comics. E devo ammettere che questa botta di fortuna è stata ancora più soddisfacente di quella del pop di Tony Bancroft perché qui proprio non ci speravo, io ero convinto che non lo avrei mai avuto questo Misteri Mini e invece al destino ha voluto diversamente. Quindi molto molto contento questo andrà finalmente ad aggiungersi alla mia collezione di pop e creature di Harry Potter. Ma adesso passiamo a quello che tutti stavamo aspettando, cioè la storia che riguarda Johnny Galeghi. Ebbene, Etna Comics quest'anno ha portato due ospiti internazionali molto molto interessanti dal punto di vista televisivo e si tratta di Giancarlo Esposito direttamente da Breaking Bad e poi da Johnny Galeghi direttamente da Big Bang Theory. Io, naturalmente, tra i due volevo assolutamente incontrare Johnny Galeghi e sono stato, ragazzi, super mega fortunato. Intanto sono stato fortunato a rientrare nei mille che potevano assistere alla conferenza sia di Giancarlo Esposito che di Johnny Galeghi perché la sala aveva una capienza di mille persone e sono stati distribuiti questi biglietti 500 per volta a chi avesse avuto piacere di appunto prendere parte a queste conferenze. Sono stato fortunato, sono riuscito a prendere entrambi i biglietti per assistere alle conferenze ma alla fine di queste conferenze tra le mille persone presenti in sala sarebbero state estratte 100 persone che avrebbero avuto la possibilità di incontrare per qualche minuto sia Johnny Galeghi che Giancarlo Esposito farsi una foto e farsi autografare qualcosa. Io naturalmente non ci speravo minimamente non ho mai vinto nulla nella vita e invece il caso ha voluto il destino ha voluto che io venissi estratto proprio per Johnny Galeghi. Sono stato davvero molto molto contento mi è dispiaciuto per i miei amici che invece non sono stati estratti ma mi sono recato all'appuntamento con Johnny Galeghi a questo incontro con i cento fortunati e ragazzi ho fatto una foto assieme a lui e poi naturalmente mi sono portato dietro il Funko Pop di Johnny Galeghi di Leonard della nuova serie e lui è stato così gentile da autografarmelo. Ragazzi neanche a dirlo è già all'interno del suo soft protector e ragazzi io ho a casa il Funko Pop di Leonard autografato cosa che nella vita non mi sarei mai aspettato una cosa per me assolutamente assurda anche solo il fatto di aver potuto stringere la mano e scambiare due parole con Johnny Galeghi per me è stato già fuori dal mondo fuori da qualsiasi logica ebbene ragazzi sono stato molto molto fortunato Johnny Galeghi sembra un ragazzo davvero molto molto disponibile molto educato molto cortese io devo dire che non ho nulla da ridire per come si è comportato con noi fan durante la conferenza è proprio sembrato un bravo ragazzo poi naturalmente non lo conosco non abbiamo avuto modo di conoscerlo nessuno di noi però per quel che è sembrato molto molto simpatico così come devo dire è stato altrettanto simpatico gentile e super generoso Giancarlo Esposito che io ammetto non conoscevo bene visto che non ho seguito Breaking Bad ma hanno mostrato diversi spezzoni sia di Breaking Bad che di altri suoi lavori come Better Call Saul che è ancora tutt'oggi in produzione per Netflix e niente mi sono appassionato perché è stato davvero gentilissimo si è anche commosso ci ha parlato del suo amore per l'Italia per la Sicilia e quindi niente ragazzi mi sa che adesso mi tocca cominciare anche Breaking Bad visto che ho avuto modo di incontrare Gustavo se non sbaglio è questo il nome del suo personaggio bene ragazzi detto questo io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine presto arriveranno tante altre novità vi ricordo che su Pampling utilizzando il codice 7Potter potrete avere il 15% di sconto su tutto il sito e potete acquistare magliette calzini scarpe qualsiasi cosa a prezzi super scontati naturalmente prodotti super nerd tutti i link utili sono in info box io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine mi raccomando ragazzi seguitemi su Instagram iscrivete il canale qualora non fostate ancora iscritti condividete il canale con i vostri amici e noi ci vediamo presto con tante altre novità ciao ciao